bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono Edo della Trinetta d'Attacco siamo tornati qui in un nuovissimo post partita siamo qui nel post partita di Lazio-Napoli-Lazio la partita è finita 2 a 1 finita da pochissimo scusate ovviamente per la voce bassa ma si è fatta anche una certa ora allora analizziamo un attimo la partita Napoli-Lazio erano due squadre molto forti venivano tutti e due dalla sosta tutti e due dal passaggio del turno di Coppa Italia il Napoli con qualche motivazione in più visto che l'Inter aveva mappargiato e poteva allungare partita che nei primi 15 minuti è stata molto equilibrata dal quindicesimo in poi il Napoli inizia da prendere sopravvento sulla Lazio che dopo l'uscita di Luis Felipe ha perso un po' il Napoli ha fatto due gol molto belli sia su di Miric che su di Cagliecon due bellissimi gol in tradire la Lazio non ha saputo rialzarsi bene si è svegliato verso il settantesimo con un gol di immobile ma non è bastato la partita è finita 2 a 1 partita diciamo dominata dal Napoli per quanto ne possa capire io il Napoli ha giocato molto bene a supremazia centrocampo oggi la Lazio non ha imposto il suo gioco come riesce a fare di solito è stato cercato poco immobile soprattutto nel primo tempo rosso anche per acerbi che ha fatto due falli anche sì secondo me nessuno dei due meritava il giallo però sui due gialli rosso per il Napoli ottima prestazione di Fabian Ruiz che è un ottimo centrocampista tuttocampista che sa fare qualsiasi ruolo del centrocampo trequartista mezzala centrocampista difensivo mediano tutti i ruoli sa fare ha un sacco di qualità che lo rende un giocatore perfetto per il nostro campionato allora quindi partita tutto sommato divertente belle giocate sia da una parte che dall'altra e sì diciamo non la più bella di questo weekend perché nel solito sono state molte belle però una tra le più belle passiamo ai migliori e peggiori in campo per il Napoli io direi lo so direi che lo so via piglio animali che non sono a polizzi rimbendo con il nostro piatto che è stato esplosamente mentre per il Napoli è stato in gioco a domenica e il suo passaggio di avventura per qualsiasi ruolo riguardo i consigli fondamenti negli adesso non bisogna fare un progetto magali al numero di gioco di torno a compagare il niente ragazzi questo era un video velocissimo scusate ancora per la bassa voce ma è tardi iscrivetevi al canale lasciate tanti i miei mi piace se non volete parlare di nessun video attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi